Eh sì, shopping natalizio è tornato anche quest'anno, seguiteci su Tele Nuova e Sottipiene e chi vuole può inviare un messaggio di auguri al 349 46 35 019 Il centro estetico La Felice augura Buon Natale Tanti auguri di un Buon Natale dalla bontà delle carni Buon Natale da Ottica Micella Auguri della pasticceria Maggi La pizzeria Dosbarra augura a tutti un Buon Natale Vi ad Ema vi augura un Buon Natale Italian Style augura Buon Natale I gioielli di mare augura Buon Natale